Non è un istituto di beneficenza, ma una clinica privata gestita con soldi miei. Per il ciclo, finché c'è Sordi. Il 72% dei bambini nascono con parto cesareo. Cesario, non lo capisci che siete voi mutui che ci obbligate a fregarvi. Avido. 2.800.000. Contenti? Cinico. Lo dobbiamo buttare? No. Io non riesco a dormire se penso a quella poverista. Eh, ce l'ho pensato. Che fai tu sguattro? Fumi in cucina? È il protetto di Monsignor Uggenio. Ma no. Alberto Sordi incarna il volto peggiore dell'Italia. Molto interessante, una bellissima neoplasia. Lastre, lastre, lastre. Professor dottor Guido Tersigli, primario della clinica Villa Celeste convenzionata con le mutue. Questa sera, alle 21, con Iris.